Ancora ore di intenso lavoro per i vigili del fuoco Aretini impegnati per far fronte ai danni e ai disagi dovuti dalla maltempo. A farsi sentire in queste ultime ore principalmente le piogge di forte vento. Qui ci troviamo a villaggio Colombo, immediata periferia Aretina, dove è ceduta parte di questo terreno, una zona che veniva utilizzata come parcheggio dai condomini. Qui era il doppio della superficie che c'è adesso, ma è già dalla frana del temporale di luglio che è stato chiuso dai vigili, però questa cosa qui è successa oggi. Criticità registrate a macchia di leopardo su tutto il territorio provinciale e Aretino, con auto da rimuovere, grossi rami ed intere piante abbattute, frane ed allagamenti, dalla Valdichiana alla Valtiberina, passando per il Casentino, questo infatti il fiume Arno, all'altezza dei primi comuni a nord della città. Disagi nuovamente anche nella zona del Bagnoro e lungo la strada di Ristradelle, allagata con il sottopasso chiuso temporaneamente. Una zona particolarmente critica, la stessa nella quale lo scorso luglio aveva perso la vita per Gentino Tanganelli, travolto dalla piena. Nuovamente allagato anche il campo sportivo di Ponte Buriano, già flagellato lo scorso novembre. La pioggia infine ha provocato anche una frana nella zona di Palazzo del Pero, che ha invaso la sede stradale.